L'attenzione mediatica e gli interventi nel quartiere di Sant'Orso, con la nuova ciclabile, la ridisegnazione di tutta la viabilità, compresi i prossimi interventi, il nuovo skatepark e sul fronte della sicurezza l'installazione delle telecamere per la videosorveglianza, hanno risvegliato gli animi, ma anche i mal di pancia, dei residenti di altri quartieri che da tempo chiedono, se non gli stessi, anche altri interventi all'amministrazione comunale, ma che di fatto ad oggi risultano totalmente inascoltati. Stiamo parlando del popoloso quartiere di San Lazzaro e delle traverse laterali di via del Ponte, di fronte alla chiesa Gran Madre di Dio, via Bianchini e via Giansanti. Queste due strade, molto praticate quotidianamente, hanno il manto stradale completamente sfaldato dal tempo in molteplici punti e segnaletica orizzontale praticamente inesistente. Ormai non si notano più nemmeno le vecchie tracce, cosa che agli incroci rappresenta un serio pericolo per la circolazione, oltre che in caso di pioggia trasformare la zona in un vero e proprio acquitrino. Il fondo stradale dissestato non è solo un pericolo per le automobili, ma anche e soprattutto per chi si muove a piedi. In questi fabbricati ci sono molti anziani che quotidianamente fanno quei 200 metri che li separano dal centro commerciale e che diverse volte sono caduti o inciampato a causa del fondo sconnesso, cosa poi che si complica ulteriormente nel caso in cui qualcuno di loro usi un deambulatore a rotelle. Per forza lo devo usare, però se fosse la strada migliore cammino meglio. Sarebbe un po' meglio. Sì. Quante volte lo usa? Quante volte ne usa? Adesso d'inverno è un po' freddo, allora un po' meno, ma però sì. Andare in chiesa, al supermercato? Sì, sì. E fa un po' fatica? Sì, perché va tutto storto, trova tutte le buche. Ma oltre a questo annuoso problema i cittadini vorrebbero che un ampio spazio verde, un tempo campetto da calcio frequentatissimo presente nel quartiere, fosse riconvertito e riqualificato a spazio pubblico per possessori di cani, con uno sgambattoio recintato, magari come avvenuto a Fano 2, e dotato di strutture per tutti e sul fronte della sicurezza di un impianto di illuminazione per scoraggiare, per così dire, i malintenzionati. Ci piacerebbe che venisse sistemato mettendo dei cancelli e sistemando anche laggiù una rete, quindi mettere praticamente dei giochi per bimbi, delle panchine magari, anche perché poi con l'arrivo della buona stagione potrebbe essere uno spazio usufruibile da tutti.